è qua però non viene non vedo che arriva la neve il caldo di neve così non si va per scuola ma dei quintali ne voglio io vado con le due tesoro in fondo vieni in questo gioco dove vai qua adesso arrivo qui io sto guardando cosa c'è sui tetti non vedo niente qui c'è un tesoro in tre più o meno ho visto basta abbiamo già vento ma di che colore giallo ritrovato il cecchino prima cassa ho una R se vuoi verde verde poi ti do poi ti do una pozione scudo ci sono due verde si abbiamo vinto arrivo eh per la fortuna è che sono andato vieni qua vieni qua da me c'è gente arrivo arrivo oh c'è uno stiano qui perché provo a mozzarlo ciao ragazzi ciao arrivo arrivo da qua vengo 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 a me c'è 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 allora pigliati questo c'è anche delle belle ah quello è il medico prendete il medico allora vieni a prendere queste due cose ho lasciato uno scudo e una R verde c'è una cosa lì c'è anche questa casa l'hanno già controllata un brodino eh c'è andrò quanto mi manca abbiamo appena iniziato ah l'avete incominciato un'altra si eh vabbè allora ne faccio una via il fratello è laggato è dato via vero eh gli ho spesso la connessione oh oh comunque li sto laggando non so per se c'è un cecchino qui se lo vuoi ma perché stai già morando su? eh c'è un altro stiano ma mi ha sparato con lui un cecchino ha tolto un po' di vita però l'ho ucciso eh c'è uno scudo da darti comunque mhm c'è un cecchino qui se lo vuoi e poi ti do e poi ti do lo slur un cecchino? si io prendo io prendo si ma però mi sta laggiando troppo cioè io lo 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 convince mi va a dita sulla fibra perchè se no guarda oh 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 si ma chiaga dove è? dove è il cecchino? è lì è lì è lì vicino qui vabbè aspetta vieni qua qui vieni qua vieni qua non spara eh? mi senti meglio adesso? ti sento ma non so perchè ma ti sento sempre con la voce in distanza ma anche te Sandro lo senti così Lorenzo? ci sono due stiane ci sono due stiane si lo sento lontanissimo suo fratello o no eh? non lo sentivo lontano suo fratello spegna la pia spegna la pia poteco dd ci sono altri stiani unoè morto un altro è morto ci sono degli altri adesso ti sentiamo bene è a posto di scuola si sente come fare a sentirlo che c'è le cuffie sento che sparato non sarà la sandro allora l'ho trovato nella prima cassa appena sono però spera cosa che il culo ora mi poteva venire ieri che un fratello dove l'aglio in all'india di sera chi cazzo ne so io di quello che fa lui gli avevo chiesto mi fanno no non vengo prendi le bende dalle in fondo da da nord ma veloce scappa quindi le vende e scappa cazzo mi hanno preso in quanti sono ok l'ho ucciso cos'è che ha? eeeh lo scaracca av? quale? normale cioè è normale viola dell'ammona vediamo in questa casa cosa c'è vabbè scusate mettiamo il tesoro ah bello medikit e lanciagranate non c'è razzo medikit e il manganello airdrop dov'è? guarda dov'è airdrop ascolta tieni io ti do questo dove lo sai? dove lo sai? un cecchino se vuoi quello lì c'hai dello spazio? hai dello spazio? no c'ho sono giusto pieno vabbè è già aperto eh l'hai trovato eh eh munizioni e la pozione a scudo come la prendo io che se avete perso si se l'ha trovata via 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 c'è la tempesta cazzo comunque ce la facciamo tanto c'ho la telecom la telecom ah la quala buona quala ora andiamo a prendere c'è la fibra se hai c'è la veste buona si chi c'ha la fibra c'è mi sparo un missile si c'è la fibra io c'ho alla delta frana che culo ecco perché vedevo che andavo a 200 mega perché è normale andare a 200 mega vero? c'ho pensavo di si io sta la in cava con sta scaracca la sto sperando io adesso attento oh da palo mi ha smaats guarda qua che bello mi hai messo il scaracca oro qui mi piace ho di scaracca in terra adesso guarda che bel cecchino che c'è anche qua ah ah ho visto guarda lì quanti scaracca mi piace ci sono 4 in terra 2 oro 2 oro e 2 viola vado in fondo si è fortunato si è fortunato che sono stato ah 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 gente putana non andiamo a prendere l'aerodro lascerò lì com'è ormai siamo qui ah no ma sono questo questo ci sono ah andiamo a prenderli allora ma dai cazzo come si è messo dai ne rimangono set aspetta ma bisogna andiamo insieme trovo quello qui eccolo un intero bravo Dio porco Dio porco Dio porco Dio porco Dio porco altro scaracca oro dai c'è un altro Dio porco guardi qua invece che c'è un altro viola oh l'ho preso Dio can di abesterni nel video io sono sono pieno di materiali eh l'aerodroco non l'hanno ancora preso rischiamo questo è pieno di scaracca si ma non allora io ne ho due in mano lui ne ho uno già tutti i due gialli eh ci sono quattro gli sono sciti tre gialli quattro cinque viola in terra ce ne sono tre viola interna ah morto oh shit madafaka madafaka shit shit da me lanciarazzi bello prendo io lanciarazzi no ma ragazza però prendo questo c'ho un altro scaracca oro ahhh un altro un altro vieni che quante scaracca un altro oh prendi nel cinque video finisci il vi Sandro prendi nel cinque finisci il video con cinque scaracca d'oro dai va bene se riesco adesso ne ho tre d'oro in mano ha dovuto una scaracca oro no non ne ho neanche uno nooo nooo e allora che cazzo chiedi allora che cazzo chiedi allora cazzo chiedi no perchè non ho visto bene dili sei proprio messo come tuo fratello ciò dai ne rimangono qua no non è un altro scaracca adesso ammazziamo altri altri cinque scaracca si ce l'ha ce l'ha anche lui oh sono quasi tutto giallo mi manca il pompa vabbè il pompa non c'è giallo sono quasi tutto giallo sono quasi tutto giallo un cinais là oh dov'è dov'è sopra di noi io mi prendo mi prendo sto oh sopra di noi oh oh o oh oh o aiuto spara no eh aiuto ecclo d'ot sono sopra di noi o o che non li vedo nella montagna 75 o o o o o o o o eh? è due cosa vuol dire è due? è due dai Nicolò si è due vedi la che non riesco a vincere altrimenti dirgli Nicolò se mi fai sbagliare se mi fai morire ti gramo ti gramo te io che cazzo è che c'è il gatto che piange oddio 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 la sei oddio eh meo ehi eh facciamoci il coso qui ooooh 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 ooooh